Su che cosa hai voluto lavorare con il tapping? Qual era il tuo tema? Ero partita da un mal di pancia, spesso mi capitava di andare al ristorante o stare in luoghi pubblici e avere mal di pancia, come se fosse un attacco di ansia, quindi mi sentivo a disagio e volevo scappare. Nel caso di Carlotta si è verificato quello che poi succede spesso, che partiamo da un tema che ci sembra un problema, magari diremmo pure un'intensità molto elevata, per poi capire invece che quella intensità è causata da qualcosa che sta subito a fianco o sotto o di lato da un'altra parte. E quindi in quel caso lavorando andiamo al target maggiore, perché target maggiore una volta risolto si porta via tutti i sub-target che invece sono molto minori. Devo dire che la cosa che mi ha colpito molto di questa esperienza è stata il fatto che soltanto con un incontro sono riuscita a liberarmi di un peso che mi portavo dietro da tantissimi anni, quindi sono riuscita non solo ad affrontarlo per la prima volta in tanti anni, ma poi a risolverlo. Grazie.